Uè! Non fare il babbo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra, sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDARONE! DAIE! Uè! Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video! Io sono XIUDAR e ragazzi, anche oggi sfide del Winterfest, dobbiamo raggiungere delle location molto particolari sulla mappa, il capanno del Crackshot, la fabbrica e un'altra cosa che attualmente non ricordo. Partiamo ragazzi dal capanno, il capanno molto semplicemente si trova esattamente qua. Come vedete siamo vicino all'isola centrale, questo dovrebbe essere il suo capanno di Crackshot, quindi basta semplicemente avvicinarci, entrare ed ecco qua ragazzi, la prima sfida è completata! Per quanto riguarda invece la seconda location, la fabbrica, è semplicissimo, dovete solamente raggiungere la falegnameria ragazzi, quindi molto easy, ci entrate o ci atterrate sopra, o ci entrate da un'altra parte e una volta raggiunta, come vedete, falegnameria, seconda location, completata! Per quanto riguarda invece la terza e ultima location, il ghiaccio artigianale di Mr. Polar, basta semplicemente raggiungere moli molesti, come vedete avete già capito che la fabbrica di cui si parla è proprio quella piena di cubi di ghiaccio e quindi una volta raggiunta, come vedete, completiamo la sfida di oggi. Io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video, mi raccomando un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi siamo in live su Twitch, ciao!